Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo per la prima volta sul mio canale in Australia, più precisamente nella capitale dello stato Victoria, ovvero Melbourne. Melbourne è un centro culturale internazionale, tanto che viene anche spesso definita come la capitale culturale dell'Australia. Non lo sapevo, ma facendo un paio di ricerche ho scoperto che a quanto pare a Melbourne è nato il primo lungometraggio della storia del cinema, è nata qui anche la televisione australiana e un sacco di correnti artistiche da pittura, letteratura, musica eccetera. Quindi anche per questo motivo, per il fatto che è sempre stata sede culturale così dell'Australia, ci sono un sacco di università qui, alcune delle più antiche dell'Australia e di conseguenza è molto abitata, molto popolata da vari studenti che si trasferiscono lì ogni anno per seguire i corsi universitari. Questa città è inoltre molto conosciuta nella cronaca nera, infatti in realtà sono un po' stupita del fatto che ho trovato un primo caso che è accaduto qui così in là, nell'inizio insomma del mio canale. Ma a quanto pare è successo davvero di tutto in questa città, in particolare per il fatto che ci sono alcune gang che sono attive in questa zona che ne hanno fatto davvero di tutti i colori. In ogni caso a Melbourne nel 2012 viveva una ragazza di 29 anni di nome Jill Megger. Jill era nata nel 1982 in Irlanda, in realtà a circa una sessantina di chilometri da Dublino, ma aveva sempre passato moltissimo tempo in Australia, all'inizio magari durante le vacanze con i genitori e poi per un periodo in realtà ci aveva anche vissuto, quando era più piccola, perché suo padre per lavoro doveva seguire un progetto che si sarebbe proprio svolti in Australia, a Perth, quindi si erano trasferiti lì per un paio d'anni. Una volta finito questo periodo lavorativo all'estero del padre, ritornarono in Irlanda, dove Jill completò i suoi studi del liceo e universitari. Fu proprio all'università che conobbe quello che diventerà poi suo marito, Tom Megger, con il quale fu proprio amore a prima vista, proprio di quelle scene da film, pochi anni dopo si sposarono, insomma sembravano per tutti la coppia perfetta, due persone davvero destinate a finire insieme. Se dal punto di vista romantico, amoroso, sentimentare la loro vita andava benissimo, dal punto di vista economico le cose non andavano benissimo, questo perché Jill faceva difficoltà per qualche motivo a trovare lavoro. Siamo a questo punto nel 2009, quindi per carità c'era una crisi economica, quindi magari anche quello ha giocato un ruolo ovviamente nella situazione. Fatto sta che a un certo punto a Tom offrirono un lavoro per il quale si sarebbe dovuto trasferire in Australia, a Melbourne, quindi decisero di cogliere quest'occasione, fare armi e bagagli e ricominciare una nuova vita in Australia, praticamente dall'altra parte del mondo. Lì la loro vita effettivamente procedette in modo molto positivo per gli anni successivi. Tom iniziò a lavorare in quell'azienda, Jill trovò un lavoro all'interno di un'emittente televisiva e radiofonica australiana, quindi anche a livello economico iniziarono a stabilirsi, acquistarono un appartamento in cui punto vivevano, insomma sembrava davvero non potesse succedere niente di negativo. Fino al 21 settembre del 2012, quando qualcosa accadde che cambiò drasticamente la loro storia. Quel giorno era un venerdì, più precisamente il venerdì pomeriggio. Jill chiamò suo marito Tom per avvisarlo che quella sera sarebbe arrivata a casa tardi, perché avevano raggiunto un obiettivo insomma professionale al lavoro, quindi avevano deciso insieme i colleghi di andare a mangiare fuori insieme e poi bere qualcosa insomma in zona. E tra l'altro la sede dove lavorava Jill era davvero a pochissimi isolati di distanza da casa sua, quindi di conseguenza anche il ristorante e il locale che scelsero lo scelsero in quell'area. Per iniziare la serata scelsero un locale che si chiamava Brunswick Green, che era davvero appunto di fianco agli studio dove lavoravano. Fecero le loro cose, cenarono, poi si spostarono in un altro locale a due minuti letteralmente a piedi di distanza da quel locale lì che si chiamava Etiquette. Finirono la serata intorno all'una e mezza di notte, a questo punto si salutarono tutti e ognuno ovviamente doveva tornare a casa propria. Un suo collega le propose di dividersi il taxi, di appunto salire insieme su un taxi che avrebbe lasciato prima lei perché abitava proprio vicino e poi sarebbe andato a accompagnare lui. Solo che a questo punto Jill era davvero dietro casa, ho controllato le distanze tipo dieci minuti a piedi quindi decise di non prendere il taxi, salutò il suo collega e si avviò a casa a piedi. Tra l'altro quella zona in realtà era una zona abbastanza tranquilla, in più una di quelle zone dove ci sono tanti locali quindi la sera c'è sempre tanta gente fino almeno alla mattina presto. Tra l'altro una zona universitaria quindi di nuovo piena di studenti, soprattutto il venerdì sera magari la gente esce, sta fuori fino a molto tardi quindi Jill davvero non era preoccupata a tornare a casa da solo a quell'ora in quella zona. In più era una strada che conosceva molto bene perché era la strada che faceva tutti i giorni per andare e tornare a lavoro, aveva fatto quella strada probabilmente un centinaio di volte. Nel frattempo a casa di Jill Tom la stava aspettando, solitamente quando usciva si metteva sul divano, insomma guarda la televisione, a cercare di aspettare la sveglia prima di andare a dormire. Quella serie in particolare, come in realtà era capitato tante altre volte, davanti alla televisione quest'uomo si era addormentato. Si sveglierà intorno alle tre quando si rese conto che sua moglie ancora non era tornata a casa. Ed era strano in generale che non fosse ancora tornata a quell'ora, ma era ancora più strano il fatto che non lo avesse avvisato, cioè se per qualche motivo avesse deciso di fermarsi di più con i suoi amici, solitamente avrebbe scritto un messaggio a suo marito dicendogli che sarebbe tornata per ora X. Provò a chiamarla più volte, lei non risponderà mai, la chiamata in realtà passerà alla segreteria telefonica, cosa che fece preoccupare ancora di più quest'uomo. A questo punto ovviamente Tom si aggrappava un po' alla speranza che magari fosse ancora con i suoi amici, avesse perso la cognizione del tempo e che per qualche motivo non sentisse il telefono, magari non prendesse al locale, quindi decise di scendere e andare a controllare se fosse ancora lì al locale, solo che arrivò davanti al posto e questo era chiuso, perché chiudeva alle 2, quindi era già chiuso da un'ora e qualcosa. A questo punto lui provò a richiamarla, stesso risultato delle prime volte, quindi decise di contattare la polizia e denunciare la scomparsa di sua moglie. La polizia fortunatamente si attivò subito, al contrario di alcuni casi di cui abbiamo parlato, nonostante Jill fosse una donna adulta, nonostante in molti altri casi quando capita una cosa del genere che non c'è di fatto una prova che sia avvenuta un'aggressione o cose del genere, tendono a pensare, almeno per i primi giorni, che si sia allontanata volontariamente. A questo giro si attivarono immediatamente, iniziarono subito con le ricerche, a contattare i colleghi che erano con lei quella sera, a parlare con le persone che lavoravano al locale e a distribuire dei volantini con sopra la sua immagine. I colleghi non avevano notato niente di strano, l'ultima volta che l'avevano vista era stata davanti al locale, quando si erano salutati e ognuno era tornato, insomma, a casa propria. Anche al locale non avevano notato niente di strano, Jill non aveva litigato con nessuno, non aveva avuto qualche situazione particolare, magari qualcuno che ci aveva provato con lei, come ci era capitato già in un caso, o qualcuno che aveva cercato, insomma, un po' di importunarla, non era successo davvero niente del genere. Nei due giorni seguenti, purtroppo, si seppe poco e nulla di Jill. Ovviamente i suoi genitori e la sua famiglia, Tom, erano preoccupatissimi a questo punto. Per quanto improbabile per il tipo di persona che era Jill, la speranza di tutti era quella che davvero se ne fosse andata per sua spontanea volontà. È dura pensare che tua moglie, tua figlia, eccetera, decida di scappare senza dirti niente, senza voler più aver niente a che fare con te, ma è sicuramente più facile da pensare che non immaginare che sia morta o che qualcuno le abbia fatto del male. La polizia, invece, fortunatamente, fin dal primo momento, si convinse del fatto che fosse accaduto qualcosa. Questa donna non si fosse allontanata da sola, quindi decisero di controllare il tracciamento del suo cellulare e anche gli spostamenti dei suoi dati bancari e della sua carta. Per quanto riguarda la carta, l'ultima volta che era stata utilizzata era stato proprio al locale, etichetto dove aveva pagato quello che aveva consumato, dopodiché non era più stata utilizzata da nessuna parte. Quindi anche questa cosa qua escluse un po' l'ipotesi magari di un rapimento a scopo di rapina, qualcosa del genere. Per quanto riguarda il cellulare, in realtà si era spento e acceso per un paio di volte, quella sera dopo la sua scomparsa. L'ultima volta che si era acceso, si era collegato a una cella vicino a una città, a tipo un'ora di macchina da Melbourne, molto distante rispetto a dove era stata vista per l'ultima volta. Una città che si chiamava Gisborne, una città dove Jill non aveva nessun tipo di contatto, non conosceva nessuno in quell'area, quindi non c'era davvero nessun motivo per cui un venerdì notte a quell'ora dovesse aver deciso per qualche motivo di andare lì. Come in ogni, non ogni caso, ma quasi ogni caso, le prime persone a essere sospettate sono le persone più vicine alla vittima e questo caso non fa eccezione, anche in questo caso il primo sospettato fu suo marito, Tom. So, hopefully, something's picked up with that. Tom, what are you going through? Hell, no, it's just devastating, but, yeah, just kind of push on as much as possible. What's keeping you going? Just hope, just hope somebody saw something or she just walked through the door. She's my best friend, she's... You know, she's just... This isn't something she doesn't do, so, yeah. Excuse me. L'ipotesi della polizia inizialmente era che magari Tom avesse fatto del male a sua moglie, cioè che quella sera Jill fosse effettivamente arrivata a casa, dopodiché lui avesse nascosto in qualche modo il suo corpo e avesse inventato, fatto finta un po' di questa cosa che lei in realtà non era mai tornata, eccetera. E per quanto approfondirono queste ipotesi, come è giusto che sia vagliare ogni possibilità e ogni tipo di ipotesi, non trovarono effettivamente niente che potesse in qualche modo indicare un possibile coinvolgimento di Tom nella scomparsa di Jill. E nonostante la polizia ci mise davvero poco tempo a scartare queste ipotesi, questo caso iniziò ad essere molto discusso su internet, sui social, in particolare su Facebook, e purtroppo, come in ogni caso, che diventa molto chiacchierato dall'opinione pubblica, da persone che non c'entrano niente, ovviamente, con il caso, succede una cosa negativa, ovvero il fatto che le persone iniziano a farsi un'opinione chiara di un caso, nonostante non si abbiano le basi per crearsi una vera e propria opinione. Ed è il motivo per cui io tendo, quando riesco al 90%, a sforzarmi di non farmi un'opinione su questi casi. È una cosa difficile da fare, perché psicologicamente noi siamo propensi a giudicare quello che vediamo, le informazioni, le persone, eccetera. Ma è una cosa che io cerco di non fare ed è una cosa che capita purtroppo molto spesso con i casi famosi, molto chiacchierati e mediatici. Quindi un sacco di persone, soprattutto su Facebook, iniziarono a scagliarsi in maniera proprio violenta contro Tom, erano tutti convinti per qualche motivo che fosse lui il colpevole, gli avevano fatto una sorta di processo finto sui social, cioè di opinioni di persone che dicono è colpevole, sicuramente è colpevole, ha la faccia da colpevole, e cose del genere. E dato che questo fu un caso che sconvolse davvero l'Australia, fu anche una risposta probabilmente automatica, perché le persone che vivano lì, chiaramente, volevano quasi pensare che quella morte lì, quel caso lì, non potesse essere una cosa randomica. Era più facile pensare che quella persona fosse stata uccisa da suo marito per motivi legati alla coppia o cose del genere, piuttosto che pensare che c'era davvero un assassino a piede libero così spietato che va in giro a puntare persone, donne che tornano a casa da sole per rapirle e far loro chissà che cosa. Quindi fu probabilmente anche una risposta un po' automatica da parte delle persone. Pensate che per bloccare tutta questa cosa qui dovete intervenire la polizia stessa a fare una sorta di comunicato stampa dove chiedevano al pubblico di smetterla, di accanirsi nei confronti di Tom e porteranno come prova per provare, anche se ovviamente non è il ruolo della polizia, però lo fecero, per provare il fatto che Tom non c'entrasse niente. Fecero vedere che praticamente nel momento in cui il cellulare si è accese a Gisborne, l'altra città, quella a un'ora di distanza da Melbourne, Tom viene ripreso da alcune videocamere nella zona vicino al locale intento a cercare sua moglie quindi non poteva trovarsi nello stesso punto in cui si è acceso il telefono di Gilles e fortunatamente con questa specificazione della polizia le persone si calmarono un attimino anche perché voglio dire immaginate quest'uomo che già deve affrontare una cosa così traumatica figuriamoci dover oltre a sopportare e a cercare di processare questa cosa qui dover sopportare tutta questa pressione mediatica. Fatto sta che in seguito a questa cosa tentarono anche di andare a Gismord tra poliziotti volontari i familiari insomma di Gilles a distribuire volantini fare domande cercare di capire se qualcuno avesse visto Gilles quella notte ma purtroppo nessuno riuscirà a dare informazioni utili e in realtà ben presto scopriranno perché ovvero il fatto che Gilles lì non c'era mai stata. Dopo alcuni giorni dalla scomparsa una persona si fece avanti chiamò la polizia e disse di aver appena trovato una borsa di donna in un vicolo vicino all'area dove era scomparsa Gilles questo uomo chiaramente giustamente dopo averla trovata non voleva toccarla per non inquinare le prove chiaramente ma la polizia quando arrivò aprì questa borsa e all'interno trovarono tutti gli effetti personali di Gilles compreso il suo portafoglio con all'interno i suoi documenti e questo fu sì un ritrovamento collegato al caso ma fu anche una cosa che creò un po' di confusione perché accadde una cosa che io vi giuro in tutti i casi di cui ho parlato mi sarò informata su centinaia non lo so quanto esattamente di casi non mi è mai capitato di leggere una cosa simile da dove partì la confusione quella strada lì quel vicolo lì era stato controllato numerose volte dalla scomparsa di Gilles in cerca di indizi e nessuno né poliziotti che c'erano passati né volontari né persone che conoscevano Gilles che avevano aiutato nelle indagini avevano visto quella borsa lì erano tutti sicuri che quando erano passati in quel vicolo quella borsa non c'era quindi cosa inizio a pensare ovviamente la polizia magari il rapitore il responsabile di quello che è accaduto a Gilles ha posizionato lì quella borsa dopo giorni dopo la sua scomparsa e questa notizia la dissero pubblicamente cioè questa cosa che avrebbero cercato indizi magari DNA nella cioè sulla borsa nelle cose eccetera per cercare di capire chi l'avesse messa lì dopo fece un po' il giro dei notiziari e fu per questo motivo che un signore contattò la polizia dicendo quella borsa l'ho messa lì io e voi penserete fantastico abbiamo trovato il colpevole o almeno qualcuno in qualche modo correlato alla cosa no era una persona che il giorno dopo cioè la mattina dopo la scomparsa di Gilles aveva aperto il suo negozietto che tra l'altro si trovava proprio sulla via che aveva percorso Gilles quella sera quando aveva tirato sulla serranda aveva visto davanti al suo ingresso del negozietto quella borsa cosa aveva pensato di fare invece di a prescindere ovviamente sapendo meno il caso di Gilles invece di contattare la polizia e dire ho trovato questo e questo aveva deciso di fare il furbetto quindi praticamente ha preso questa borsa se l'è portata dentro ha preso i soldi che c'erano nel portafoglio insomma se l'è tenuta lui un giorno e mezzo due giorni dopo questo ritrovamento mentre stava parlando al telefono con sua figlia lei gli raccontò appunto che aveva sentito questa notizia di questa ragazza che era scomparsa e che era scomparsa proprio nella zona in cui quest'uomo aveva un negozietto questo signore si impanica un attimo va a vedere i documenti il nome sui documenti in questa borsa e si rende conto di avere nel suo negozio la borsa i documenti gli effetti personali di una persona scomparsa quindi cosa fa per la seconda volta invece di contattare la polizia e spiegare il malinteso scelse di prendere questa borsa e lasciarla in quel vicolo facendo finta praticamente di niente quindi non solo la polizia ci metterà un po' di giorni a entrare in possesso di questa borsa ma qualsiasi tipo di traccia dna eccetera era stata contaminata perché questo molo aveva tenuto aveva tenuto sta borsa oltre ad aver toccato tutto aveva tenuto sta borsa per giorni prima di lasciarla lì e che poi venisse ritrovata dall'altro passante quindi questo è quello che accadde per quanto riguarda la borsa lasciando da parte questa situazione non lo so assurda non è mai capitato di aver sentito una roba del genere una signora che aveva un negozio anche lei sempre sulla stessa via un negozio di abiti da cerimonia per curiosità decise di guardare se la propria videocamera di sorveglianza avesse ripreso qualcosa quella notte ed effettivamente questa signora notò due cose strane in primo luogo che quella notte era stato visto passare avanti e indietro più volte davanti al suo locale un signore sempre lo stesso la seconda cosa che notò è che a un certo punto Jill era stata effettivamente ripresa dalla sua videocamera e proprio davanti al suo negozio di abiti da cerimonia Jill e quest'uomo che era stato visto passare su e giù più volte si erano scambiati un paio di parole purtroppo dalla ripresa quest'uomo non si vede molto bene si vede un po' come è vestito ma non si vede bene in faccia o cose del genere quindi la polizia decise di rilasciare queste immagini al pubblico nella speranza che qualcuno potesse individuare identificare questa persona da quel poco che si vedeva e purtroppo col fatto che si vedeva davvero poco nessuno chiamo per dire secondo me mio marito mio fratello mio vicino di casa eccetera quindi altri negozianti della zona tentarono di vedere se dalle loro videocamere si vedeva quella scena lì ripresa magari da diverse angolature che potessero in qualche modo aiutare un pochino di più l'identificazione di questa persona ed effettivamente fu proprio così rilasciarono altre immagini altre riprese di questa persona e qualcuno lo identificò lo identificarono come un certo Adrian Bailey che non era per niente un nome sconosciuto alla polizia Adrian Bailey aveva uno storico con la polizia un curriculum proprio di quelli che si fa fatica a seguire infatti mi sono segnata tutte le condanne adesso ve le dirò risulterà probabilmente un po' un elenco però non si hanno molte informazioni a riguardo era stato arrestato per la prima volta quando aveva 18 anni per aver aggredito e violentato una ragazza di 16 anni che era un'amica di sua sorella in prigione però starà davvero pochissimo tipo un anno e mezzo verrà rilasciato prima per buona condotta pochissimo tempo dopo il suo rilascio aggredì un'altra ragazza aggressione che verrà risolta solo dopo una seconda aggressione poco tempo dopo dove la vittima riuscì effettivamente ad identificarlo per queste due aggressioni e tentativi di stupro Adrian si prese 5 anni però verrà rilasciato solo dopo 22 mesi quindi un anno e qualcosa per buona condotta di nuovo e in seguito al suo rilascio aggredirà un bel po' di altre ragazze tutte nell'area di Melbourne proprio appunto dove si trovava Jill di queste diverse aggressioni due risulteranno in uno stupro verrà di nuovo arrestato e processato per queste varie aggressioni e verrà condannato a soli 12 anni di prigione dove però ne avrebbe dovuti scontare solo 8 prima di richiedere la libertà condizionale e verrà rilasciato poco o meno sotto gli 8 anni sempre per buona condotta ma non abbiamo ancora finito perché pochi mesi dopo il suo rilascio aggredisce tenta di stuprare un'altra donna viene arrestato e condannato a tre mesi di prigione così non so le condanne diminuiscono invece che aumentare non si sa come mai dato ovviamente lo storico di questa persona la polizia cercò subito di rintracciare il cellulare di questo Adrian per cercare di capire dove si trovasse quella sera e guarda caso due tra virgolette coincidenze quella sera proprio intorno all'una e mezza si trovava esattamente nella zona dove si trovava dove è stata rapita Jill e circa un'ora un'ora e qualcosa dopo un'ora e mezza dopo si trovava proprio a Gisborne dove il cellulare di Jill si era acceso prima di spegnersi per sempre e in quel periodo lui abitava proprio in quella città a Gisborne quindi lo arrestano lo portano in centrale per un interrogatorio lui si dichiara assolutamente strano ai fatti disse anzi disse che non aveva mai visto Jill non sapeva che fine avesse fatto quando gli chiedono che cosa ci facesse in quell'area quell'ora insomma lui disse che preparatevi perché sarà una cosa così collegata al caso che sinceramente non capisco perché una persona debba dire una cosa del genere disse che si trovava in quella zona perché stava cercando la sua fidanzata e stava cercando la sua fidanzata perché secondo lui le ragazze le donne non devono camminare da sole la notte ed era ovviamente un riferimento che poteva davvero collegarsi tanto a quello che è successo a Jill fatto sta che in ogni caso lui continua a negare negherà per un certo periodo insomma di essere anche quella persona ripresa dalle videocamere fino a quando la polizia perquisendo il suo appartamento non trovò all'interno della lavatrice incastrata in un angolo insomma in una fessura della lavatrice una scheda sim che si rivelerà essere la scheda sim di Jill a questo punto con questo ritrovamento che ovviamente non poteva trattarsi di una coincidenza Adrian decise di confessare e darà una spiegazione io ve la dico però preparatevi dirà che quella sera lui era lì appunto per cercare la sua fidanzata aveva visto Jill e aveva deciso di provarci con lei così Jill chiaramente aveva rifiutato le sue avance lui aveva continuato a camminarle di fianco insomma a provarci con lei e di punti in bianco lei stando a quello che ha detto Adrian era uscita di testa aveva iniziato a picchiarlo violentemente aveva iniziato ad aggredirlo a essere molto violenta quindi e lui per difesa l'ha strangolata questo è quello che raccontò Adrian la polizia gli disse va bene facendo finta di credere a sta versione perché a questo punto volevano trovare il corpo di Jill chiaramente gli chiesero di portarli nel punto in cui aveva nascosto il corpo e ci saranno un po' di problemi qua perché a quanto pare non si ricordava vagheranno per molto tempo in diverse aree dove lui era convinto appunto di aver o disse insomma non lo so di aver nascosto il corpo di Jill ma per un bel po' di tempo non troveranno niente nei punti indicati da questo Adrian qui quindi stavano quasi per rinunciare per perdere le speranze che questo ragazzo quest'uomo sarebbe mai stato in grado di portarli al corpo di Jill quando finalmente o Adrian si decise o si ricordò non lo so indicò un punto dicendo di averla sepolta lì ed effettivamente era una zona dove il terreno era stato smosso cioè si vedeva che qualcuno aveva scavato e ricoperto e in una buca troveranno il corpo di Jill dall'autopsia venne fuori che era stata strangolata e in più c'erano degli evidenti segni di qualche tipo di violenza sessuale e che c'erano la risposta la risposta dal pubblico fu enorme come vi dicevo questo caso sconvolse letteralmente l'Australia fu un caso chiacchieratissimo e quando venne fuori ovviamente questa persona che era stata arrestata che aveva portato al corpo di Jill cioè immaginatevi quello che la bufera che si era scatenata su Tom che non c'entrava assolutamente niente immaginatevi quando venne fuori nome, cognome e foto di questa persona qui tanto che per la seconda volta in questo caso dovette intervenire la polizia per chiedere alle persone di placarsi in questo caso non lo fecero come nel caso di Tom per proteggere una persona innocente di fatto ma per evitare che questa cosa potesse in qualche modo plagiare o influire la giuria che si sarebbe poi occupata del processo di Adrian e nonostante le richieste della polizia in realtà ci furono cioè nel senso non è che queste persone smisero di parlarne o di scagliarsi così violentemente e fare minacce ad Adrian fatto sta che in realtà all'inizio del processo Adrian si dichiarò non colpevole non so se venne diciamo suggerito dai suoi avvocati non so se c'è una spiegazione magari legalmente era meglio dichiararsi non colpevole per qualche motivo fatto sta che chiaramente con la sim di Jill in casa sua con le riprese di lui che parlava con lei con il fatto che gli aveva portato la polizia dove c'era il corpo di Jill chiaramente aveva poche chance quindi di punti in bianco poi decise di dichiararsi colpevole e il fatto che si dichiarò colpevole fece sì che la sua pena venne tra virgolette ridotta cioè che tennero in considerazione il fatto che si era dichiarato colpevole come cosa positiva per gli anni che gli avrebbero dato e infatti al termine del processo questo ragazzo si prenderà 35 anni di prigione che per carità per una persona che ha continuato a uscire entrare 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 di prigione per lo stesso crimine e già di più non sono i tre mesi che si era preso per altre aggressioni però quando uscirà di prigione questo ragazzo sarà un signore però avrà ancora tutte le potenzialità per poter essere ancora un pericolo per le persone hanno intervistato poi la famiglia di Jill e Tom suo marito per chiedergli che cosa ne pensassero di questa condanna tra virgolette breve per quello che era ovviamente la sua la famiglia di Jill e il marito speravano in un ergastolo anche considerando il fatto che era chiaramente una persona recidiva era una persona che prima di compiere un crimine così grande ne aveva fatti tanti più piccoli che era palese che avrebbero portato prima o poi un incidente del genere e anche il caso di oggi si conclude così come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del caso di oggi grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video se volete sostenere il canale vi ricordo iscrivetevi lasciate un mi piace un commento seguitemi sulle altre piattaforme per il caso di oggi era tutto noi ci rivediamo con un prossimo video ciao